Il giusto relativo La via principale della città di sabbia in Mauritania, ai margini del deserto, due file di casupolo estrette una contro l'altra, muri cadenti e soffocati dalla sabbia. Tetti crivellati, di dimore, che sono state umane, sfigurate dalla povertà, rabberciate con tavolette di legno e coperte di sabbia. Lunghe pertiche, con in cima minuscoli casotti per la cattura degli uccelli, ombreggiate miseramente da rami contorti, resti della città di sabbia abitata dalla rovina. Con la mente mi dico che non è possibile una tale rovina, eppure la coscienza mi dice che è il giusto relativo della città di sabbia e l'abbandono del bisogno di vivere in quella città, finito solo quando tutto ciò che quegli abitanti potevano comprendere, senza lasciare nulla indietro, è stato compreso. In mezzo alla strada scorre un rigagnolo di sabbia che serpeggia tra buche profonde scavate dal vento. Qua e là mucchi di pietre di sabbia coperte da antiche immondizie e da insetti? Dove sono andati i vecchi abitanti che si affacciavano alle porte delle case che adesso sono cieche? Abitano un'altra esperienza che li ha spinti verso città più grandi non strozzate dalla sabbia. Si sono uniti ad altre creature che, dopo molte vite vissute nel deserto, hanno raggiunto la stessa comprensione e vivono tutti in una affollata comunione libera però dalla sabbia.